Allora, non creo l'attesa ma la sorpresa, sesta finalista, ad aggiungersi a me che so, Dustin, Betty, oltre la vita, si c'è, si arriviamo alla maglia, c'è, un sogno, non è vero, non è vero, un sogno. Tternogli o lo so, l'ancharia. Torn focus, padre, da tutti i suoi. Grazie.